Le partite che io ho giocato qua sono state quattro, anche a livello personale, credo di aver disputato dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, però credo che quello ci sta e quindi sono fiducioso per quanto riguarda il futuro perché sono convinto che sia a livello personale sia a livello di squadra ci troveremo sempre meglio. Delle quattro partite che ho giocato tutte e quattro avevo delle marcature a uomo e quindi diventa più difficile, tante volte devi essere intelligente anche magari non ricevendo palla però fai un movimento che può creare uno spazio per un compagno e far sì che il compagno possa ricevere palla. Quindi i tempi di reazione sono brevi, devi ragionare subito e tante volte devi ragionare prima che ti arriva la palla e quindi diventa difficile, però comunque quello è il mio ruolo e quindi lo faccio ben volentieri. La mia carriera penso che quella era nei 17 anni da professionista la terza, non vorrei sbagliare, direttamente rosso penso che sia stata la seconda, non credo sia importante, non mi era mai capitato a 26 anni della fine e credo che comunque gli arbitri come noi possono eventualmente sbagliarsi. Io credo che in quel caso là, come direi a me stesso se sbaglio un gol, che ho sbagliato un gol, in quel caso là direi all'arbitro che comunque non ero d'accordo, non era un faro d'espulsione. Però ripeto, il lavoro dell'arbitro è difficile, tante volte sei a casa e anche da casa con il replay vedi un'azione e dici ma è fuori gioco o non è fuori gioco? Quindi anche per loro è una frazione di secondo, l'arbitro può sbagliare e magari in quel momento non la prendiamo bene, però ci sta e bisogna cercare di dargli una mano.